Salve! Quarta e giuro ultima puntata del grande Georg Wilhelm Friedrich, Hegel. Nella precedente puntata abbiamo parlato della sua Fenomenologia dello Spirito, che lui chiama un romanzo di formazione della storia, una storia, come dire, criptata, nel senso bloccata, si fa per dire, attraverso la quale l'uomo non può che passare così. È come se la storia nel concetto hegeliano fosse già stata scritta. Io esprimo quest'opinione, che però è mia ovviamente, ma ognuno qualche volta la può esprimere, che il suo essere protestante di Hegel, il concetto di predestinazione che era proprio dell'etica e della conoscenza della storia protestante, prima di Lutero ma soprattutto di Calvino, abbia molto influito su Hegel. Ma l'ultima cosa che dobbiamo dire, perché non possiamo lasciare Hegel senza parlare della sua ultima opera, scritta nel 1817, che si chiama Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Che cosa vuol dire? Di che parliamo? In questo enorme disegno di razionalità globale, Hegel è convinto, anzitutto, che ne è convinto come tutti gli idealisti, che la storia abbia un processo dialettico. La dialettica, che viene da dialogo, il contrario del monologo, cioè il dialogo è una realtà tra almeno due persone, quindi è uno scambio e nello scambio non si rimane mai uguale a se stessi. Quindi il rapporto dialettico è fatto, questo l'aveva già detto Fichte, di tesi, antitesi e sintesi. La tesi, che viene dal verbo titemi greco, vuol dire il porre una cosa. Per Hegel la tesi è l'idea in sé, cioè l'idea pura, quella che dimora nella nostra mente, nella mente umana, ma non è stata ancora estrinsecata, scusate, è ancora intrinseca, non è stata ancora resa nota al mondo, non è stata ancora portata nel mondo, dunque non è stata ancora confrontata con altre tesi. Poi viene il momento secondo, la antitesi, che vuol dire l'antitesi, cioè l'idea fuori di sé, quando è portata fuori, quando viaggia nell'oltre da sé, che come Fichte Schelling Hegel chiama la natura, cioè l'idea che si protende, si fa conoscere nello spazio del mondo. La sintesi, il terzo momento da syntitemi, che vuol dire porre insieme, è l'idea che torna in sé, dopo essere stata partorita, dopo essersi confrontata nell'antitesi, torna in sé. C'è una bellissima espressione per chi studia il tedesco, è veramente bella, bei sich, bei sich, cioè presso di sé. Cioè, questo vuol dire che l'idea ritorna arricchita, perché ha acquistato coscienza di sé, appunto. Quindi questo scontro dialettico l'ha arricchita. E questa idea è veramente lo spirito, è il massimo possibile. Ecco, questa dinamica dialettica, l'abbiamo detto più di una volta, è il modo degli idealisti di considerare la storia. Proviamo per un attimo, solo per capirla meglio, Hegel non lo fa, forse non autorizzerebbe questo tentativo di comprensione, però proviamo a applicarla a noi. Ognuno di noi, per esempio, pone un pensiero, cioè gli nasce un pensiero, poi lo offre ad un altro, lo confronta con un altro, ciò provoca l'incontro, barra scontro. Però uno scontro da intendersi come confronto, poi gli ritorna dentro nel terzo momento e se è una persona capace di dialogo è arricchita tantissimo da questa sintesi. Per Hegel però, questo attenti bene, non è, come ho cercato di spiegarlo io, uno schema psicologico, ma uno schema tutto intellettuale. Infatti, tesi, antitesi e sintesi corrispondono per Hegel ai tre momenti del pensiero. Il primo momento è il momento appunto astratto e intellettuale, il momento della tesi, il pensiero dentro di sé, pur sempre pensiero, con la sua dignità. Il secondo momento è il momento dialettico, che lui chiama anche negativo-razionale, è il momento dell'antitesi. Negativo non vuol dire che sia una fase negativa, ma che è costretto ad essere negato o anche a negare parte di sé. E il terzo momento è il momento speculativo o positivo-razionale, che è il momento della sintesi. Hegel usa un altro termine tedesco un po' intraducibile, dice che il momento della sintesi è la Aufhebung, A-U-F-H-E-B-U-N-G. D-A-U-F-E-B-U-N-G che viene dal verbo tedesco A-U-F-E-B-U-N-G che vuol dire annullare, cioè la tesi è l'annullamento della tesi attraverso l'antitesi, ma in realtà è un arricchimento della tesi. Dunque, parlando di questi modi di porsi del pensiero, concludiamo citando questa sua enciclopedia delle scienze filosofiche, che lui, con un po' di supponenza tipica delle persone molto geniali, considera il sistema definitivo, come se dopo di lui il mondo dovesse morire, il sistema completo delle cognizioni, che presume di trattare tutto lo scibile umano, cioè tutto ciò che si può conoscere dal verbo scire, appunto latino, è organizzato in questa enciclopedia e in questo modo da Hegel. Hegel è convinto dunque che un intellettuale, ma anche un uomo che voglia conoscere la realtà, debba studiare, diciamo, debba conoscere le realtà in questo modo, in tre modi diversi. Il primo momento è, in questa enciclopedia, il momento della logica. La logica a che serve? Fa un'analisi delle strutture logiche del mondo ed si divide in tre freccette. la logica dell'essere, che è il primo pensiero o la tesi, e lui dice che tutto questo è stato fino ai filosofi presocratici, quelli che si studiano al terzo anno. Poi c'è la logica dell'essenza, che è il pensiero estrinsecato o l'antitesi, e lui dice che questo è stato il periodo da Platone a Kant. E il terzo momento è la logica del concetto, cioè è la sintesi, è il pensiero tornato in sé. Naturalmente, questo è proprio i motivi solo nell'idealismo, quindi logica dell'essere, logica dell'essenza, logica del concetto. Il secondo punto, la seconda grande branca di questa enciclopedia è la filosofia della natura. Cioè la filosofia della natura sarebbe una sorta di mega-antitesi, diciamo così, cioè quella scienza che, o meglio, quell'insieme di scienze che devono esistere, di fatto esistono, che pongono il pensiero fuori di sé, come nell'antitesi, cioè nel fare altre cose pratiche. Nella filosofia della natura fanno parte la meccanica, la fisica e la fisica organica. Il terzo momento è la filosofia dello spirito, che è la megasintesi, ovvero quell'idea che, secondo lo schema tesi-antitesi-sintesi, torna finalmente, diciamo, si incunea e dimora definitivamente nella soggettività dell'uomo. E la filosofia dello spirito si divide in tre altre parti. Lo spirito soggettivo, cioè ancora la prima fase, e allo spirito soggettivo corrispondono lo studio della antropologia, della fenomenologia e della psicologia. Tutte queste scienze, Egel in parte ha ragione, studiano l'io così com'è, come si presenta. Poi c'è il secondo momento della filosofia dello spirito, che è lo spirito oggettivo. Qui è quando l'io aderisce all'oggettività, all'istituzione statale. Quindi da antropologia e psicologia si passa a altre tre scienze, diritto, moralità ed eticità. E infine c'è l'ultima parte, lo spirito assoluto. Quando l'io sa di essere diventato un assoluto, praticamente sa di essere diventato Dio. e queste sono le tre scienze più importanti. Sono l'arte, che è l'assoluto nella estetica. Sono la religione, che è l'assoluto nella rappresentazione. Attenti, la religione per Hegel è solo rappresentazione, una delle rappresentazioni, una delle più importanti dello spirito assoluto. E l'ultimo è la filosofia, cioè l'assoluto nel puro concetto. Così Hegel organizza le scienze. Hegel morì di colera nel 1831, una malattia allora in Europa non ancora debellata. È stato un genio come tutti, un po' supponente, ma dobbiamo considerarlo così nei geni. Grazie a tutti, un saluto particolare a me lunedì quinta. Ciao!